Sul fronte della quantità, l'annata olivicola 2014-2015, che si sta profilando in Campania ed in particolar modo nel Cilento, sarà certamente da dimenticare, con un calo della produzione di olive di oltre il 20% e un brusco ridimensionamento delle rese fino al 50%. È il momento di alzare la guardia, perché è evidente il rischio che il mercato sia invaso da prodotto di dubbia origine e provenienza, e poi spacciato per Made in Italy. Ma nonostante questo, come il mercato ci insegna, quando la produzione cala il prezzo aumenta. La causa principale si chiama mosca dell'olivo o delle olive, la cui larva è una minatrice della druppa dell'olivo. È considerata l'avversità più grave a carico di queste maestose piante. Gli insetti poi vanno ad aggiungersi ad un clima sempre più anomalo. Intanto i consumatori devono prestare molta attenzione all'etichetta, che pur nascosta spesso sul retro della bottiglia e riportata a caratteri minuscoli, deve riportare la scritta ottenuto da miscela di oli comunitari o da extracomunitari, se non si tratta di olio 100%. Le esportazioni di extravergine italiano, indirizzate per la gran parte negli USA, Giappone, Spagna, Germania, Svizzera, Francia, Australia e Canada, sono in serio pericolo.